C'erano una volta tre cassonetti lungo la salita Matteotti. Oggi quei contenitori per la spazzatura sembrano essere spariti. Lo scorso 2 febbraio infatti sono iniziati i lavori della salita e i tre cassonetti che si trovavano lì sono stati in un primo momento spostati accanto al Palazzo del Carmine. Una scelta che ha scatenato non poche polemiche nelle pagine di alcuni profili Facebook dei cittadini nisseni, compresa quella del sindaco Giovanni Ruvolo. C'è chi sosteneva che non fosse decoroso trovare accanto al municipio i contenitori della spazzatura, chi invece credeva fosse un nuovo cambio di look della grande piazza. Dopo pochi giorni però i cassonetti di Corso Umberto sono magicamente scomparsi e molti cittadini si interrogano sulla loro sorte. Ma dove saranno finite le tre pattugniere di via Matteotti? Sembrerebbe che secondo quanto sostengono alcuni commercianti di Corso Umberto i tre cassonetti smarriti siano stati trasferiti in Viare d'Italia. Non è un caso infatti che in prossimità della curva che della stessa via conduce al Corso Umberto non vi è solo un contenitore per i rifiuti, ma ben quattro. Un vero e proprio mistero insomma, perché se in via Matteotti sono stati eliminati i contenitori dei rifiuti, in Viare d'Italia pare che ne siano apparsi tre. Non saranno forse gli stessi che sono scomparsi dalla via Matteotti e poi da Corso Umberto? Sembrerebbe che si tratti di un vero e proprio mistero. Di tutta questa vicenda però una cosa è ormai certa, che gli abitanti delle via Bellini e Matteotti non hanno più dei cassonetti dell'immondizia che si trovano vicino le loro abitazioni dove poter buttare i loro rifiuti.